60 giorni da Presidente della Regione Abruzzo, 28 punti, quelli delle iniziative assunte nell'intercorrere dei primi due mesi. Infrastrutture, sviluppo, programmazione, incontri, tavoli per le aree di crisi, riprogrammazione della macchina amministrativa, atti di tutela del territorio e tutti i nodi venuti al pettine finora. E già in via di ammunizione, primo fra tutti Luciano D'Alfonso in forma. Vietate da oggi tutte le letterine tra uffici, pena, la vocazione. Sì, noi abbiamo una forma potente di antipatia per le letterine che camminano e circumnavigano gli uffici della Regione. Quindi stoppa le letterine interne, vogliamo una Regione non più introversa, una Regione funzione dell'economia, della cultura e della società. Una Regione che si fa legittimare dei risultati che raggiunge. Nuovi obiettivi. L'Abruzzo dovrà essere la Regione cicloturistica più importante d'Italia, al via il piano di ampliamento per la dorsale adriatica. L'Abruzzo, dice, deve trasformarsi in Regione notabile. Ereditato dalla passata legislatura, che noi abbiamo incrementato per fare in modo che sia certa la realizzazione, adeguando anche la copertura finanziaria, precisando il cronoprogramma e facendo in modo che in un tempo prevedibile, di qui ai primi del 2015, si comincino a vedere i dati cartacei dell'impresa contraente, per poter vedere le tute degli operai sporche di cemento, il cemento della realizzazione. Poi i ringraziamenti, grazie al Ministro Barca, divenuto ormai abruzzese di adozione, che oggi sa guardare da dentro i nodi della Regione. E poi al Ministro Lupi, che si è reso collaboratore e non oppositore nei piani delle infrastrutture, grazie a Legnini per i fondi ottenuti con le sue iniziative, grazie all'ANAS che ha collaborato al suo piano infrastrutturale, e grazie al capo di governo Renzi, grazie al suo sblocca cantieri, si è potuto procedere a molti, troppi impedimenti burocratici e poi aggiunge a settembre e sarà qui in Abruzzo per un incontro. Faremo pesare il sei mese di presidenza italiana dell'Europa, il fatto che Chiamparino adesso presiede la conferenza Stato-Regioni e guarda con simpatia l'Abruzzo e anche che siamo vogliosi e determinati nel fare i dossier. Infine torna in Abruzzo e ci tiene a sottolinearlo la programmazione e perciò tra 40 giorni nuovo confronto con la stampa per rendicontare le azioni successive. Per la prima volta l'Abruzzo si doterà di un DPFR entro agosto e lo approverà entro settembre. E poi su questo si scateni il dialogo competitivo con la società abruzzese, con gli imprenditori, i sindacati, gli studenti, i cassi integrati, coloro i quali vivono il dolore o il progetto, le forze politiche di opposizione. In maniera tale da arrivare alla legge di stabilità finanziaria a dicembre è con la maturità di un lavoro fatto a monte. Noi dobbiamo rimettere a posto le rotative. Erano saltate le rotative del processo programmatorio. È chiaro che poi ognuno voleva prendere per sé tutto quello che capitava, non fidandosi di una programmazione che non c'era. Questa è la metrica della correttezza decisionale.